Noi ci impegniamo a far sì che qualsiasi persona possa praticare questo sport che è la pallacanestro ma soprattutto che i piccoli abbiano la possibilità un giorno di essere autonomi sia nella vita che nello sport. La forza di questa squadra è l'unione, loro sono uno per tutti e tutti per uno come moschettieri. Ci sono degli amici in più che ci vogliono bene, che credono in quello che facciamo e merito anche dei ragazzi che ci credono e ci mettono l'anima. Questi ragazzi giocano con il cuore, con passione, sono determinati. Ritengo che la responsabilità di un'azienda, di una realtà come la nostra sia anche quella di sostenere iniziative come queste. Tre insieme è un nostro pensiero collegato con tre cuori perché non ne basta uno ma ne vogliamo tre e che deve raggruppare un po' tutte quelle che sono le iniziative fatte con il cuore per avvicinarsi a quello che sono gli obiettivi, le esigenze dei cittadini. Mi auguro che questo ruggito vi aiuti per sempre, questo è per te e per tutta la vostra squadra. La serata di stasera è stata un'idea nostra assieme a Studio 3A, quindi tu sei diventato a tutti gli effetti parte integrante di questa famiglia. Per il 2019 penso che l'augurio sia comunicare cuore, affetto, determinazione e serie A. Grazie a tutti.